Inizia fino a 800 la travagliata storia dell'attuale residenza Olivenheim da piccolo casinò svizzero ad elegante albergo ottocentesco secondo il progetto di un lungimirante caffettiere, passando per sanatorio per tubercolotici di guerra fino alla vendita risalente a 20 anni fa. Ma le basi per la realizzazione dell'attuale eco-mostro, da molti così definito, vennero gettate nel 1996 quando i proprietari dell'edificio chiesero all'allora sindaco Eugenio Mantovani una concessione edilizia che venne subito negata per via dei volumi eccessivi. Vista la situazione, nel 2000 il nuovo piano regolatore definisce precise prescrizioni anche per l'ex Argentina riguardanti volume, altezza, rispetto del contesto e della storia, ordinando un'impronta architettonica tale da richiamare lo stile ottocentesco. La variante del 2003, più elastica della precedente e sulle altezze, sottolinea sempre il dovere di limitare l'impatto paesaggistico del futuro edificio, l'obbligo di seguire le curve di livello del terreno naturale e il rispetto architettonico nel ricordare l'immagine originaria. Dal dicembre 2004 al 2005 l'assessore Sergio Dell'Ana e l'assessore Stefano Bresciani inviano una lettera a Cosmi, l'attuale impresa proprietaria contenente dei consigli su come procedere nella costruzione dell'edificio. La vicenda prosegue con una serie di contraddizioni. Prima approvazione del progetto preliminare che compromette le speranze di un recupero filoarchitettonico, poi la firma ad una convenzione in cui si specifica che l'impatto complessivo del piano di recupero va rispettato. Ma il 21 maggio 2009 la commissione edilizia dà l'ok alla demolizione e un mese dopo la concessione ad edificare l'attuale scempio. La reazione dei cittadini di Arco è immediata e nel 2013 sfocia nella denuncia dello scempio paesaggistico a nome del gruppo Salvaguardia dell'Olivaia. Solo ieri, poco prima di mezzogiorno, i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Trento hanno completato le operazioni di sequestro di alcune porzioni materiali dell'ex sanatorio argentina. Oggi divenuto un complesso residenziale di lusso. Sigili ad una ventina di appartamenti, garage, posti auto, cantine e beni per un valore di circa 10 milioni di euro. Il reato, definito dallo stesso GIP del Tribunale, è di lottizzazione abusiva, vede coinvolte 10 persone, tra le quali vi sono rappresentanze politiche e dipendenti pubblici. Tra i principali indagati l'imprenditore rivano Roberto Miorelli, in quanto legale rappresentante dell'impresa, è il fratello Gianluca Miorelli, all'epoca dei fatti delegato dell'allora Cosmi S.p.A. Ma non mancano altri volti noti, l'attuale vice sindaco di Arco Stefano Bresciani, la dirigente dell'area tecnica del comune Bianca Maria Simoncelli, anche la funzionaria dell'ufficio edilizia privata Tiziana Mancabelli e due membri della commissione edilizia del 2009, Massimo Favaro e Giorgio Bellotti, i progettisti dell'impresa responsabile Bruno Ferretti e Alessio Bolgan e infine il direttore lavori Mariano Zanon. Nel decreto che dispone il sequestro preventivo dei beni invenduti sono sei i capi di imputazione, l'esagerata volumetria degli edifici, la completa demolizione del corpo storico del complesso ex-Argentina e la conseguente costruzione in muratura di forte impatto architettonico, l'illecita costruzione di una parte del complesso che si trova a monte rispetto a quello principale e quindi non è rispettoso del livello naturale del terreno. Segue lo sbancamento da 23.000 m3 autorizzati a 114.500 m3 di terreno rimossi. Infine l'estirpazione di tutti gli alberi presenti senza un preventivo rilievo. A colpire negativamente l'opinione pubblica è il fatto che né la ditta costruttrice Cosmi né il Comune si sono mai preoccupati di fornire o richiedere gli elaborati con lo stato e il calcolo dei volumi esistenti. I m3 realizzabili erano circa 10.000 ma ne sono stati realizzati più del triplo. E per concludere i garage attualmente in fronte strada e visibili a chiunque dovevano risultare interrati e non da considerare come volumi emergenti. Il GIP esclude nel decreto la possibilità di una prescrizione del reato perché il reato di lottizzazione abusiva perdura come reato permanente sino all'ultimazione delle costruzioni illegittime, concluse nel giugno del 2013.